e allora a proposito di ajax milan tiziano crudelli ce la racconterà sospiro su sospiro ciao tiziano benvenuto hai visto sono tutta di rosso è che va bene per la roma per il milan vuol dire ce la racconterà sospiro e dico perché sospiro nel senso passo dopo passo ecco non sospiro perché devi stare preoccupato no ma è una presentazione cosa c'entra sospiro non c'entra niente con la presentazione ogni sospiro ce la racconterà di minuto in minuto di secondi in secondi cosa c'entra di sospiro in sospiro cosa vuol dire è che tra un minuto e un minuto lo sospirerai attenzione suarez viene fermato in maniera perentoria da tiago silva ma è ancora ajax buon ritmo gran ritmo da parte dell'ajax attenzione attaccano i giocatori dell'ajax palla sulla sinistra per suarez tunnel anesta va sul fondo attenzione gol dell'ajax almadui ha tutto il tempo di girarsi e di mettere dentro sotto la traversa gol gol ventiduesimo elio cosa fai cosa fai elio ma due volte perché poteva recuperarlo vai un attimo da foschini ho capito allora è stato annullato per fuorigioco attenzione attenzione robinio robinio tu per tu sbaglia un gol incredibile sbaglia un gol incredibile sbaglia un gol incredibile solo davanti a stechenenburg esce una soffecca esce una soffecca e va e va a fondo campo non si può sbagliare un gol così non si può sbagliare un gol così non si può caro bigno 18 milioni l'abbiamo pagato non si può non si può sbagliare un gol così era solo davanti al portiere stechenenburg poteva fare quello che voleva e ha tirata fuori una ciofeca una conclusione che è andata a fondo campo non si può sbagliare un gol così non si può sbagliare un gol così in aria tiro parata di ambiati si soffre si soffre e poi si sprecono gol incredibili non è possibile non è possibile non è hai ragione tiziano gol 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 Dio nello sbirro dobbiamo raccontare una cosa Massimo Traffati durante la pubblicità il rito della nostra parte ha detto fa gol Ibrahimovic ha detto fa gol Ibrahimovic durante la pubblicità e andiamo e andiamo e andiamo e andiamo e andiamo è stato bravo scendolo è stato bravo assi di sedo e acce di braille che controlla e poi con la sforniciatina messi dentro ed è gol ed è gol vibra 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 ed è colson da rito nella messa e e andiamo e andiamo e andiamo foschini foschini ti voglio a me ma quanto sei contento vai tiziano quanto è importante vieni qua che ti scigotto vieni qua vieni che ti scigotto amore mio dai bra dai bra oh che bella ma che bella allora fai fare la giovanni sedo scusa sta scendendo all'avversario dietro che lo spinge lo tiene indietro di forza ma non può aspettare che la palla perché sennò il difensore allora fa un salto e con la palla numero del piede è uguale stoppa la palla la fa scendere fa così stoppa la palla stoppa la palla col petto se è la giusta tu fai il difensore spingi 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 che bello è bello ancora dai spingimi dai spingimi dai su e allora poi fa così e mette dentro no anzi così non è che sei veramente un vecchio di bambino ti ha dato il femore no finita 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 tiziano finita finita beh insomma un pareggio che per come si era messa la partita per come ha giocato l'ajax sei in trasferta una buona partita un buon Milan una bella partita un ottimo Ajax un'ottima prestazione del Milan secondo me equilibrato tra altre cose un po' più delle altre volte esatto quindi anche come modulo un po' la vittoria di Allegri nel senso anche se c'è stato un pareggio però ragazzi la pallavol di Boateng dice che il Milan avrebbe verità sì sì è bene sì 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 sì